Ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel, oggi abbiamo l'onore di ospitare negli studi televisivi Giovanni D'Avenia. Chi è Giovanni D'Avenia? È il presidente onorario del centro studi Super Sud, nonché ideatore della Borsa Mediterranea Formazione Lavoro. Ben trovato Giovanni. Buongiorno, grazie a voi. Allora, oggi parleremo innanzitutto del centro studi Super Sud e poi facciamo il bilancio di questo tour nel Cilento tra Agropoli e Ascea, dunque perché stai accompagnando delle aziende giovani nella promozione di alcuni prodotti, ma ne parliamo subito dopo. Parliamo prima invece di questo centro studi Super Sud. Che cos'è? Di cosa si occupa? Innanzitutto il centro studi Super Sud dà la possibilità attraverso dell'informazione e l'orientamento creare occasioni, bandi e occasioni di lavoro e dare informazioni. Uno dei principi fondamentali è basato sulla democrazia delle opportunità. Ogni giorno dei ragazzi caricano sul sito Super Sud delle schede relativi a bandi e informazioni e occasioni di lavoro. E abbiamo accompagnato una serie di realtà intorno al Super Sud, non ultima un'associazione di progettisti, progettisti che si metteranno a disposizione del territorio. Ma l'idea forte che ha partorito Super Sud è stata la Borsa Mediterranea della Formazione e Lavoro, che quest'anno è stata la seconda edizione, che a causa del Covid l'abbiamo potuta tenere tutta online. E nonostante questa siamo stati premiati perché ci sono state più di 50 ore di diretta, 200.000 visualizzazioni. E che cosa è la Borsa? Nasce come un LinkedIn non virtuale, uno spazio dove gli attori istituzionali, in primis la Regione Campania, il mondo dell'università, della scuola, dialoghe e interagisce con attori del mondo privato. Quest'anno abbiamo avuto come ospiti 24 agenzie di lavoro ed enti di formazione. Questo mondo dialoga scambiandosi delle informazioni e matchando domande e offerte di lavoro. Tant'è che una delle grosse novità che abbiamo lanciato durante questa seconda edizione è stato il sito BMF Online. Cioè su questo sito vengono caricati tutti gli annunci delle agenzie di lavoro e degli enti di formazione. E a sua volta molti ragazzi possono caricare il loro curriculum. Caricando il loro curriculum vengono valutati dai rispettivi enti di formazione e agenzie e potranno essere chiamati sia per orientarli sia per il percorso formativo. Ma a sua volta anche le aziende, in maniera del tutto gratuita, possono caricare degli annunci e delle esigenze rispetto a un fabbisogno lavorativo o delle offerte formative. Questi annunci verranno guardati e visti da tutti gli enti e le agenzie di lavoro e possano dialogare tra di loro. In realtà abbiamo inventato un monster territoriale. Perché una delle più grandi sfide che stiamo lanciando attraverso la Borsa e uno dei principi di Superstudio è fare rete e sistema. Perché durante questi dibattiti e queste ore sono emerse tante eccellenze in tutti gli ambienti. Nel mondo imprenditoriale, nel mondo istituzionale, far conoscere tutte le attività che le istituzioni stanno facendo. Nel mondo della scuola, nel mondo dell'università e soprattutto anche le realtà formative. Quindi che vuol dire? Mettere in evidenza tutte queste eccellenze e farle diventare sistemi e farle dialogare. Questa è una delle sfide che si prefigge SuperSud. Ecco, diamo subito, comunichiamo l'indirizzo di SuperSud, il sito internet, in modo tale che i nostri telespettatori, tanti giovani, possono visitarlo. Basta andare sul sito www.supersud.it, da due o tre mesi è stato trasformato in un quotidiano online. Questo quotidiano sta avendo una rilevanza in tutte le regioni del Sud, perché noi riteniamo che l'informazione e l'orientamento sono elementi essenziali per una crescita di un territorio. E proprio per questo noi dobbiamo far emergere potenzialità in espresso, cioè tante eccellenze che esistono, ma queste eccellenze vanno raccontate e vanno testimoniate. Allora, in occasione invece della Borsa Mediterranea della Formazione Lavoro, hai premiato due aziende. La prima è CSP, non solo due aziende, tante altre, ma veniamo al tema attuale per cui tu oggi sei qui. Stai facendo un tour con CSP, che è un'azienda agropolese, ragazzi giovani laureati hanno creato una mascherina Imotep, che è davvero eccezionale, è fatta in silicone, quindi utilissima per tante situazioni. L'hai premiata, quindi raccontaci con loro oggi se sei stato qui ad Agropoli per donare queste mascherine Imotep alla Croce Rossa Agropoli e Cilento, giusto? Sì, perché noi attraverso i Cinto Studi Super Sud orbitano varie associazioni. Durante il periodo del Covid noi attraverso una piattaforma di crowdfunding, Eppla, abbiamo chiesto ai nostri amici e vari associati di dare un contributo, una raccolta fondi per acquisire delle mascherine e poterle donare. Quindi grazie a quel ricavato, a quel contributo, oggi siamo venuti qui ad Agropoli. Abbiamo acquistato da questi ragazzi di Agropoli, da questa azienda fatta da ragazzi giovanissimi, per di più 22-23 anni, CSP, una realtà che sta avendo successo a livello nazionale e noi diciamo che spesso una delle grosse deficit del Sud è far emergere e raccontare le eccellenze nei nostri territori. Che cosa abbiamo fatto? Con questi contributi abbiamo acquistato queste mascherine e le abbiamo donate stamattina alla Croce Rossa del Comitato di Agropoli, nella persona del Presidente Giovanna Infante, che hanno ringraziato e sono rimasti entusiasti di questa esperienza. Innanzitutto per la validità tecnica di questa mascherina e perché sta avendo un grosso successo. E soprattutto abbiamo messo a sistema due realtà, come dei giovani imprenditori. Attraverso dei corpi intermetri, che è la Croce Rossa, che ha una grossa tradizione storica e soprattutto in questo periodo del Covid abbiamo saputo apprezzare sempre di più il mondo della sanità e tutto ciò che gravita intorno alla sanità. Abbiamo apprezzato, abbiamo messo a sistema e abbiamo unito queste cose e abbiamo raccontato una bella testimonianza, una bella storia. La seconda storia, racconteremo, è questa di la ditta Raffaele Fariello di Ascia. Che cosa è successo? Durante il periodo del Covid, siccome lui aveva una fabbrica di materassi, stava producendo delle mascherine del tutto gratuite. Ci siamo conosciuti, ci siamo sentiti telefonicamente perché in quel periodo non potevamo frequentarci e avevamo chiesto se poteva darci delle mascherine in donazione, raccontando la sua esperienza e noi raccontavamo l'esperienza di Super Sud. Che cosa abbiamo ora detto? Perché ci sono dei bandi di incentivi, perché non partecipano, abbiamo anche aiutato, spronato, andare avanti. Grazie a quell'incentivo, oggi lui è partecipato a un bando di Vitalia ed è acquistato, ha avuto un evidenziamento per acquistare di un macchinario, è stato certificato e ora va in produzione. Quindi anche di Ascea avremo una fabbrica che produrrà mascherine a livello nazionale. Quindi sono due storie belle da raccontare e come anche il Cilento può dire, in questo momento di sconvolto, come queste storie vanno raccontate e vanno rappresentate ed esaltate a mio avviso. Perfetto. Prima di salutare i nostri telespettatori per questo bell'incontro fatto con te, vogliamo dare un'indicazione magari ai giovani per il Centro Studi Super Sud? Sicuramente di andare a visitare la piattaforma BMF Online, la Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro, perché lì già ci stanno 100 annunci di lavoro fatti da agenzie di lavoro e degli annunci. Qualcuno può conoscere le offerte formative perché una cosa ci dobbiamo dire con l'estrema verità, da qui a qualche periodo il Covid farà cancellare tanti posti di lavoro, con l'innovazione tecnologica, perché un dato che è emerso dalla Borsa diventa un elemento importante, ma soprattutto diventa importante anche la gestione del risorso umano, quindi innovazione tecnologica e risorso umano. E noi possiamo creare lavoro puntando su due elementi essenziali, la formazione e la ricerca. Perché abbiamo detto la ricerca? Perché non c'è sviluppo senza innovazione e non c'è innovazione senza la ricerca. E poi la formazione a tutti i livelli, sia per chi già lavora per mantenere il posto di lavoro, e sia per acquisire nuove conoscenze e nuove competenze, perché il mercato sarà così veloce da qua ai prossimi anni, e quindi dobbiamo attrezzarci a questa sfida post-Covid e competere a livello globale. Questa cosa, il messaggio che vogliamo lanciare, è che questa cosa si fa facendo rete, facendo sistema, tutti insieme, perché da solo nessuno può vincere questa sfida. Bene, grazie Giovanni D'Avenia, dunque Presidente Onorario di Centro Studi Super Sud, ringrazio anche i colleghi di Salerno Notizie, Stefano Cammarano della CSP, insomma i ragazzi di Imotep e Alfonso, il mio amico di Salerno. Grazie a tutti e arrivederci a presto con una nuova intervista, sempre su Cilento Channel.